Tutti i negativi risultati dei tamponi eseguiti ai componenti della Giunta e responsabili delle posizioni organizzative del comune di Monteparano. Lo ufficializza il primo cittadino, Giuseppe Grassi, che si dice doppiamente contento. Innanzitutto perché stanno bene e poi perché, spiega, mi attanagliava l'idea di poter essere il responsabile del loro stato di salute. Il sindaco e la moglie, infatti, dopo la positività accertata al coronavirus, restano in casa evidenziandomi sintomi non preoccupanti ma da tenere continuamente sotto controllo. Anche i familiari e tutti i contatti più stretti del primo cittadino erano già stati sottoposti a tampone giorni fa. Anche per loro fortunatamente il risultato negativo, così da permettere il ritorno alle consuete attività personali. Negativi anche tutti i cittadini per i quali si attendevano i risultati dopo il tracciamento da parte dell'Asla. Rinnovo l'appello a rispettare tutte le norme anti-covid, dice Grassi, mascherina di stanza sociale e lavaggio frequente ed igienizzazione delle mani. Occorre buonsenso e responsabilità non solo per proteggere se stessi ma anche per tutelare nonni e soggetti più fragili. E il momento, conclude, della collaborazione del senso civico.